carissimi a tutti voi di vero cuore e buona pasqua nel nome del signore ecco cristo muore dalla vita per noi e per noi risorge e vince la morte impedendo così alla speranza di morire la speranza non delude ecco vogliamo sperare in quest'anno così difficile sullo scenario internazionale con guerre focolai di guerra accesi in più parti vogliamo sperare che nel cuore dei uomini sgorghino sentimenti di pace sentimenti di pace di cui abbiamo tutti bisogno ci sono guerre ma ci sono anche tante piccole guerre tra noi tante nemicizie tante gelosie tante invidie che avvelenano esistenza ecco davvero il saluto del signor risorto pace a voi trovi albergo trovi cittadinanza nei nostri cuori e la pace si accetta ecco una domanda mi porto nel cuore che lascia tutti e voi e se scoppiasse la pace sia davvero così buona pasqua a tutti nel nome del signore grazie a tutti grazie a tutti